Oggi al Flaminio sono in programma potature in Viale del Vignola. Sino alle 17 e circa la strada sarà chiusa a traffico nel tratto compreso tra piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia. Deviati i bus della linea 910 provenienti da piazza Mancini. Transiteranno in via Guidoreni saltando complessivamente tre fermate. Normale itinerario per le vetture provenienti da piazza Indipendenza. E questa notte per consentire il posizionamento di un autogru, Vianizza sarà chiusa a traffico in entrambi i sensi di marcia. Deviate le ultime corse in programma questa sera e le prime di domani mattina delle linee 38, 80 e 89.